E ovviamente ci spostiamo in Brianza, in particolare a Serenio, per presentare i Coppa San Giove. E canteranno per noi il brano intitolato La Pace, un brano tradizionale. Una paura. Ciao a tutti, siamo il coro Coppa San Giove. E dove è? Io non l'ho mica inventato. Allora, Coppa San Giove perché siamo tre coretti della città di Serenio, che in alcune occasioni cantano insieme. E ci chiamiamo Coppa San Giove perché insieme a Serenio c'è la comunità pastorale San Giovanni Paolo II, quindi comunità pastorale San Giovanni, Coppa San Giove. Esatto, noi di solito non cantiamo insieme, ci uniamo solo per vari eventi, Natale, matrimoni e altre occasioni. E allora abbiamo deciso anche di partecipare a questo contest, tutti insieme, per fare comunità. Nella nostra città non sempre gli adulti riescono a creare delle occasioni. Noi invece, grazie alla nostra passione per la musica, alla nostra amicizia, siamo un vero esempio di comunità. Abbiamo deciso di aiutare il gruppo Solidarietà Africa, un'associazione di Serenio. Ha molti progetti e noi in particolare vogliamo sostenere questo progetto che riguarda l'ospedale di Afanyan, San Jean de Vieux, in Togo. Questo ospedale pediatrico ha bisogno di maggior sostegno dal punto di vista diagnostico e terapeutico e con il nostro contributo potremmo aiutare donne e bambini ad avere maggiori possibilità di futuro. Ok, e adesso un saluto da parte di tutto il nostro coro. Ciao! Ciao! Grazie 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 Grazie